Sacrificio, 9 martedì. E mi disse in fretta e piano, vieni con me dalla mamma, li ho sentiti stamani che discorrevano, al babbo è andato male un affare, era addolorato, la mamma gli faceva coraggio, siamo nelle strettezze, capisci, non ci sono più denari, il babbo diceva che bisognerà fare dei sacrifici per rimettersi, ora bisogna che facciamo anche noi dei sacrifici, non è vero? Sei pronto? Bene, parlo alla mamma e tu accenna di sì e promettile sul tuo onore che farai tutto quello che dirò io. Detto questo mi prese per mano e mi condusse da nostra madre che stava cucendo tutta pensierosa, io sedetti da una parte del sofà, Silvia sedetta dall'altra e subito disse, senti mamma ho da parlarti, abbiamo da parlarti tutti e due. La mamma ci guardò meravigliata e Silvia cominciò, il babbo è senza denari vero? Che dici? Rispose la mamma arrossendo, non è vero, che ne sai tu, chi te l'ha detto? Lo so, disse Silvia risoluta, ebbene senti mamma, dobbiamo fare dei sacrifici anche noi, tu mi avevi permesso un ventaglio per la fin di maggio e Enrico aspettava la sua scatola di colori, non vogliamo più nulla, non vogliamo che si sprechino i soldi, saremo contenti lo stesso, hai capito? La mamma tentò di parlare ma Silvia disse, no, sarà così, abbiamo deciso, e finché il babbo non avrà dei denari non vogliamo più né frutta né altre cose, ci basterà la minestra, e la mattina a colazione mangeremo del pane, così si spenderà meno a tavola che già spendiamo troppo, e noi ti promettiamo che ci vedrai sempre contenti ad un modo, non è vero Enrico? Io risposi di sì. Sempre contenti ad un modo, ripete Silvia chiudendo la bocca alla mamma con una mano, e se c'è altri sacrifici da fare o nel vestire o in altro, noi li faremo volentieri, e vendiamo anche i nostri regali, io do tutte le mie cose, Ti servo io da cameriera, non daremo più nulla a fare fuori di casa, lavorerò con te tutto il giorno, farò tutto quello che vorrai, sono disposta a tutto, a tutto, esclamò gettando le braccia al collo a mia madre, purché il babbo e la mamma non abbiam più dispiaceri, purché io torni a vedervi tutti e due tranquilli, di buon umore, come prima, in mezzo alla vostra Silvia e al vostro Enrico, che vi vogliono tanto bene che darebbero la loro vita per voi. Ah, io non vidi mai mia madre così contenta come a sentir quelle parole, non ci baciò mai in fronte a quel modo, piangendo e ridendo senza poter parlare, e poi assicurò Silvia che aveva capito male, che non eravamo mica ridotti come sa credeva, per fortuna, e cento volte ci disse grazie, e fu allegra tutta la sera, finché rientrò mio padre, a cui disse tutto. Egli non ha perse bocca, povero padre mio, ma questa mattina, sedendo a tavola, provai insieme un gran piacere e una gran tristezza. Io trovai sotto il tovagliolo la mia scatola, e Silvia ci trovò il suo ventaglio.